Musica Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di CTS Notizia. Apriamo subito con la cronaca. 14 ordinanze di custodia cautelare sono state emesse ed eseguite dalla polizia a Messina nei confronti di persone ritenute responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro di bancarotta fraudolente. In manette anche Carlo Borrella, 52 anni, imprenditore ed ex presidente dell'Associazione dei Costruttori di Messina. I dettagli. Questa mattina il personale della squadra mobile di Messina ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 14 soggetti in quanto ritenuti responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro in plurime fatti specie di bancarotta fraudolenta. Il GIP presso il locale tribunale, dottoressa Maria Teresa Materia, accogliendo pressoché integralmente la richiesta formulata dai sostituti procuratori, dottor Fabrizio Monaco e dottor Antonio Carchietti, con il coordinamento del procuratore aggiunto, dottore Sebastien Ardita, ha disposto all'applicazione dell'ordinanza di misure cautelari. Il provvedimento cautelare prende le mosse dagli esiti delle indagini condotte e riassunte con l'informativa del 31-10-2012, con la quale venivano denunciati 23 soggetti in quanto ritenuti responsabili a vario titolo di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta. Il quadro investigativo raccolto, costituito da un articolato lavoro di elaborazione e di analisi incrociata degli esiti di indagine condotti in distinti procedimenti penali, ha consentito di dimostrare che i componenti dell'importante gruppo imprenditoriale della famiglia Borella hanno posto in essere una vera e propria operazione di depauperamento dell'importante società, la The Motor Spa, operante nel settore degli appalti pubblici, attraversata da vicende processuali di criminalità organizzata, destinandola alla sicura decozione, secondo un preciso e predeterminato disegno criminoso, consistente nella sistematica e progressiva spogliazione dei rame attivi del suo complesso aziendale, collocandoli in nuove società, potendo contare sulla preziosa e proficua collaborazione di esperti professionisti. Tutto ciò al fine di mantenere le attività del gruppo, sottraendole a rischio di misure interdittive e all'aggressione dei creditori. Cambiamo provincia e ci spostiamo nell'Agrigentino perché si sono svolti questa mattina ad Aragona i funerali delle due piccole vittime della tragedia verificatasi ai vulcanelli delle Macalube. Tanta la commozione e il dolore anche tra i compagni e gli amici dei due bambini travolti dal fango. Vediamo. Oggi è il giorno dei funerali dei fratellini Laura e Carmelo Mulone. L'ultimo saluto ai due bambini di 7 e 9 anni verrà dato alle 16 nella richiesa della Madonna di Pompeia ad Aragona. Il luogo della funzione è stato scelto dalla madre dei piccoli, legati in modo particolare alla chiesa dove hanno fatto il catechismo. Laura e Carmelo hanno perso la vita sabato dopo un'esplosione di fango nella riserva di Macalube. Stando all'autopsia del medico legale, i due fratellini sono morti per soffocamento dopo aver ingerito il fango. Stravolti gli abitanti di Aragona che osservano una giornata di lutto cittadino. Nel frattempo alla presidenza della regione, alla presenza del governatore della regione siciliana Rosario Crocetta e dell'assessore al territorio ambiente Pier Giorgio Gerratana si è tenuto un incontro per discutere sulla necessità di chiudere al pubblico tutti quei luoghi dove sono presenti dei vulcanelli e di affidargli alla gestione della guardia forestale. Il sito di Macalube è gestito da Lega Ambiente che ha dichiarato di non voler polemizzare in attesa dei funerali. Intanto continua l'inchiesta della procura di aggregento per omicidio plurimo anche se non risultano ancora persone nel registro degli indagati. E tra poco parleremo di politica nazionale con la nuova riforma del lavoro di Matteo Renzi. Prima però ci fermiamo per la pubblicità. Restate con noi. Chicovo, un amore d'uomo La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014 Abbonati al quotidiano di Sicilia Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Non solo l'abolizione dell'articolo 18 nella riforma del lavoro di Matteo Renzi ci saranno anche il diritto al licenziamento e l'abolizione dei contratti flessibili e il TFR anticipato in busta paga. Allora vediamo come cambia il mondo del lavoro. Dobbiamo andare all'attacco. In questi anni la Repubblica non è stata fondata sul lavoro, come dice l'articolo 1 della Costituzione, ma è stata fondata sulla rendita. Renzi non arretra e difende la sua linea su Jobs Act e articolo 18. La riforma del lavoro che spacca ancora una volta le schiere del PD e infiamma quelle dei sindacati, che pur parlando di buon confronto con il Premier minacciano lo sciopero. La riforma del lavoro riprenderà mercoledì 1 ottobre il cammino al Senato. Si annuncia già critica la discussione sul reintegro nei casi di licenziamenti discriminatori previsto dall'articolo 18 allo Statuto dei Lavoratori, su cui il PD si è spaccato e le sigle sindacali hanno annunciato battaglia. Tra gli altri punti caldi è il Jobs Act, contratti a tempo indeterminato a tutte le crescenti in relazione all'anzianità di servizio per tutti i neoassunti, la creazione di un testo organico semplificato delle discipline, delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. Attualmente infatti sono previste 47 diverse forme contrattuali. Riordino della cassa integrazione con nuovi limiti all'utilizzo dello strumento, razionalizzazione degli incentivi all'assunzione e in generale riordino dei servizi e lavoro e delle politiche attive. Manzioni flessibili in caso di riorganizzazione o conversione aziendale che permetterà al lavoratore di passare da una mansione all'altra. Controlli a distanza per creare maggiore mobilità con l'utilizzo delle nuove tecnologie per la sorveglianza e il telelavoro, tutelando comunque dignità e riservatezza del lavoratore. Rimodulazione dell'aspita, segno di disoccupazione in relazione alla carriera contributiva del lavoratore con l'estensione però anche ai collaboratori ad esso esclusi. Vausher saltuari in tutti i settori per allargare il mondo dei lavoratori precari come gli stagionali e infine ferie solidali per i lavoratori che potrà accederli a colleghi che ne abbiano bisogno per motivi familiari o di salute. Le mediazioni vanno bene, il compromesso è una parola buona ma non si fanno mediazioni a tutti i costi, compromessi a tutti i costi. E intanto nuovo record per la disoccupazione giovanile in Italia, a rivelarlo è un'indagine dell'Istat, un record che si attesta al 44,2% di giovani tra i 15 e i 24 anni che sono senza lavoro. Sentiamo. E mentre infiammano le polemiche sulla riforma del lavoro targata a Renzi, è boom di disoccupazione, a evidenziare il rapporto annuale sul lavoro presentato all'Ocse che conferma come siano allarmanti i dati nel nostro paese. In Italia la disoccupazione media ha raggiunto il 12,6%, oltre ai due punti più alta del valore medio europeo. La crescita della disoccupazione giovanile è stata particolarmente rapida in Italia, segnala l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il tasso di disoccupazione è raddoppiato dal 2007. Oltre la metà dei lavoratori italiani under 25, il 52,9%, ha un lavoro precario, una percentuale quasi raddoppiata rispetto al 2000, quando erano il 26,2%. A essere colpiti, soprattutto i giovani senza lavoro, il tasso dei 15-24 anni ad agosto è stato del 44,2%, un punto percentuale in più rispetto al mese precedente. Ancora più preoccupante è la quota dei cosiddetti NIT, i giovani totalmente inattivi, ossia quelli che non lavorano, non si formano e non studiano, che impenna e sale di 6,1 punti percentuali rispetto al passato. Un dato questo in controtendenza rispetto agli altri paesi europei, in cui i giovani hanno reagito alle scarse prospettive occupazionali, aumentando l'investimento in istruzione. Questo però non accade in Italia, dove per i giovani NIT, avverte l'Oxe, cresce il rischio di stigma, cioè di subire un calo permanente nelle prospettive di occupazione e remunerazione. La politica siciliana, mancano maggioranza, forte e unità di intenti. Il governo regionale ancora una volta, come troppo spesso negli ultimi anni, continua a vivere momenti di fibrillazione, così i problemi che attanegliano l'isola restano al palo. Ascoltiamo. Continuano le fibrillazioni nella politica regionale. I partiti di opposizione si stanno organizzando per presentare la sfiducia a Crocetta, provvedimento che però difficilmente verrà votato da un numero sufficiente di deputati per mandare a casa il presidente della regione. Forza Italia e il nuovo centrodestra sono schierati contro il governatore, così come ormai all'opposizione si possono considerare anche i deputati del Movimento 5 Stelle. L'Udc invece dichiara di voler rimanere fedele al patto delle elezioni e quindi continuare a sostenere il governo. Intanto, una delle riforme bandiera di Crocetta, l'abolizione delle province e la costituzione dei liberi consorsi dei comuni e delle città metropolitane rischia di essere mandata in soffitta. Sono pronti alcuni disegni di legge all'Ars per recepire direttamente la riforma del Rio, in modo da armonizzare il sistema regionale con quello nazionale, ma anche per riempire una riforma che ancora non ha trovato compimento. E su questo argomento potrebbe compattarsi un fronte trasversale che potrebbe unire maggioranza e minoranza. In questo modo l'Ars scavalcherebbe il governo proprio su quello che era uno dei suoi cavalli di battaglia. E c'è anche l'appoggio del presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone. Il decreto del Rio sostanzialmente prevede il mantenimento delle province, ridefinendone compiti e funzioni, ma cessando di essere un organo eletto dai cittadini. Gli organi verrebbero scelti con elezioni di secondo grado, tra sindaci, assessori e consiglieri comunali, e non riceveranno alcuna indennità aggiuntiva. Sul fronte delle competenze, la più importante funzione in capo alle province sarà quella relativa all'edilizia scolastica, oltre a quelle riguardanti le pari opportunità. E intanto l'Ars taglia gli stipendi. Fino a 60.000 euro le decurtazioni per i dipendenti di Palazzo dei Normanni ed è subito polemica. Dettagli nel servizio. Taglia l'Ars. Diminuzione degli stipendi fino a 60.000 euro netti annuali per circa 220 dipendenti. Scatta la polemica. Venerdì è previsto un incontro all'Ars per discutere i piani retributivi. Già ad agosto era stata proposta l'introduzione di un tetto massimo pari a 240.000 euro per il segretario generale. Il capo dei deputati questori, Paolo Rugirello, ha dichiarato che verrà presa in considerazione la possibilità di applicare incentivi proprio all'interno della cifra di 240.000 euro. La presidenza dell'Ars ha rivelato però di avere un asso nella manica, prendere in considerazione i piani retributivi di Camera e Senato e apporre ad essi eventuali modifiche. I tecnici della Camera e i segretari del Senato infatti disporranno di un tetto di 166.000 euro. L'Assemblea regionale siciliana invece raggiunge al momento circa 200.000 euro. Tagli anche per gli assistenti del Parlamento nazionale con una cifra non superiore ai 99.000 euro a fronte degli attuali 142.000 del Parlamento siciliano. Un netto risparmio per le casse siciliane che rischierebbe di andare in fumo con l'eventuale approvazione del neopiano di Camera e Senato. Il documento prevede l'applicazione di incentivi che aumenterebbero di gran lunga le retribuzioni dei consiglieri parlamentari con il superamento del fatidico tetto massimo di 240.000 euro. Previsti anche bonus sulla produttività pari a circa il 10% della retribuzione lorda dell'anno precedente, che farebbero sì che non vi fossero più differenze o quasi fra i consiglieri e le altre categorie. La decisione finale potrebbe essere presa a Roma ad ottobre. Adesso in Sicilia, stando a Ruggirello, si attende venerdì per analizzare le possibili proposte dei sindacati. Si è parlato di fondi europei ieri pomeriggio all'Orto Botanico di Palermo, alla presenza di esponenti nazionali e regionali del Partito Democratico, con la Sicilia chiamata a preparare un piano di spesa responsabile per la programmazione 2014-2020 per rilanciare il tessuto economico dell'isola. Sentiamo. Con un occhio al futuro, il governo nazionale dialoga con Bruxelles e si prepara ad intercettare i fondi europei attraverso una rigida programmazione. Uno degli obiettivi di spesa fondamentali sarà quello di indirizzare le risorse in quei settori strategici che possano servire a rilanciare il tessuto economico dello stivale, partendo in particolare dal sud Italia. La Sicilia si è mossa per tempo proprio in questa direzione, aprendo una concertazione con il governo nazionale che possa risultare produttiva per gli anni a venire. Se ne è parlato ieri pomeriggio all'Orto Botanico di Palermo nel corso di un incontro al quale hanno preso parte esponenti nazionali e regionali del Partito Democratico. Noi abbiamo avuto l'ok per quello che si chiama l'accordo di partenariato che è partito in termini di programmazione da gennaio del 2014 e va fino al 2020 e dentro questi fondi europei, secondo quelli che sono gli obiettivi che l'Italia si è data e che l'Unione Europea ha avallato, ci stanno 11 temi fondamentali. La Sicilia dobbiamo riconoscere che ha fatto un passo avanti nel governo regionale rispetto ai anni precedenti perché eravamo fermi a un utilizzo dei fondi del 17% che è passato al 41% ma non basta, questo non ci deve assolutamente fermare e questo incontro vuole promuovere proprio un rilancio di queste iniziative e un riannodare, riallacciare, aprire e consolidare un rapporto con la politica nazionale da parte della politica siciliana perché passi un flusso informativo che ci aiuti anche nella progettazione e nel reperimento delle risorse. L'assessorato economia ha già individuato le quote di cofinanziamento per la programmazione comunitaria dare ai privati incentivi per gli investimenti abbattendo il carico fiscale sotto forma di credo di imposta per gli investimenti e per l'occupazione risolverebbe anche questo problema perché la quota di cofinanziamento a quel punto sarebbe la quota di investimenti effettuati direttamente dalle imprese. E parliamo di sanità, lupus eritematoso sistemico, una malattia subdola poco conosciuta e ancora senza cura che colpisce soprattutto le donne attaccando il sistema immunitario che si rivolta contro gli organi. Se ne è parlato a Palermo nel corso della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale del Gruppo Italiano per la lotta contro il LES. Sentiamo. Manca un'adeguata informazione che permetta di riconoscere e diagnosticare una delle patologie più subdole e meno identificabili. I malati di LES, lupus eritematoso sistemico sono affetti da una rara malattia che confonde il sistema immunitario che attacca tutti gli organi come fossero corpi estranei. Le manifestazioni sono tra le più svariate e per questo risulta assai problematico identificare sintomi precisi in modo da intervenire in tempi rapidi. In genere il LES si presenta tra i 15 e i 40 anni, prevalentemente nelle donne. In Sicilia sono stimabili approssimativamente 2.500 casi su un totale di circa 30.000 in Italia. Ma questi malati, per cui non esiste ancora una cura, non si sentono tutelati in ambito sanitario e alcuni farmaci, per loro necessari, non sono esenti dal ticket sanitario. Se ne è parlata la presenza di numerosi esperti e pazienti a Palermo nel corso della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale del Gruppo Italiano per la lotta contro il LES. Mi trovo in difficoltà perché non so più dare delle risposte certe, nel senso che se mi chiama un qualsiasi paziente critico che ha bisogno di una visita urgente o comunque a breve termine, non ho delle risposte da dare perché comunque mancano i reumatologi, mancano le reumatologie, e di conseguenza non si può avere la possibilità di far curare questi pazienti molto critici. Oggi abbiamo a disposizione un farmaco, il Belimumab, frutto di una ricerca che è durata da diversi anni, un anticorpo monoclonale che blocca una molecola che attiva i linfociti B. I linfociti B sono le cellule che producono gli anticorpi. Quest'anticorpo si è dimostrato efficace nel ritardare alcuni aspetti dell'evoluzione della malattia. Si è dimostrato importante perché è capace di ridurre la quantità di cortisonici che questi pazienti devono assumere. Tra poco parleremo di calcio, prima però ci fermiamo per la pubblicità. Restate con noi. Comunica. Comunica. Fosice 202 in atto sul Palermo 98. Non si in appoggio anche alla me. Global Security International. Gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato. Pronto intervento. Controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International. Servizi di scorta. Radio e telecamere. Telesoccorso 24 ore su 24. Vigilanza notturna e diurna. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. Safir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir. La sicurezza dei tuoi beni più cari. E siamo allo sport. Il Palermo crolla in casa contro la Lazio. Finisce 0 a 4. Un risultato oltremodo bugiardo e immeritato per il Rosanero, che però si vedono così condannati all'ultimo posto insieme a Sassuolo, Parma ed Empoli. Prossimo avversario in campionato dopo la pausa per la Nazionale. Il servizio. Il calcio è fatto di episodi e il Palermo ne ha avuto una prova decisamente lampante. Contro la Lazio e il Rosanero hanno ancora una volta giocato una signora partita, ricca di intensità e agonismo, ma questa squadra ha un pesante difetto di fabbrica. Quando viene attaccata rischia sempre di capitolare e anche lunedì è stato così. La Lazio con il minimo sforzo ha raggiunto il massimo risultato vincendo 4 a 0 e portandosi a casa a tre punti che probabilmente dovevano avere un altro colore se solo la squadra di Echini non fosse così sbadata in difesa. Sì perché il Palermo ha creato, ha attaccato, ha avuto varie occasioni per passare anche in vantaggio, ma ha sprecato troppo. E così, quando i bianco celesti hanno avuto l'unica palla a gol, hanno segnato con il talentoso Djordjevic al 44esimo. E dire che due minuti prima Vasquez e Dybala avevano avuto due nette occasioni per segnare, ma non lo hanno fatto e in Serie A, quando sbagli, gli avversari non ti perdonano. Così nella ripresa, quando il Palermo ha sempre fatto la partita, con una Lazio catenacciara e dopo aver sprecato almeno tre nitide occasioni, arriva il gol bianco celeste a spezzare i sogni rosa-nero, sempre con questo Djordjevic, uno che ricorderà sempre con piacere lo stadio Renzo Barbera. Il Palermo è questo, è una scuola che gioca bene, che crea molto, ma che ha grosse lacune difensive, in particolare quando gli avversari attaccano sugli esterni. E contro la Lazio, i gol sono arrivati dalle fasce, dove Morganella, Lazare e Emerson non sono certamente stati dei fenomeni. Peccato perché questa è una sconfitta pesante, che arriva dopo una prestazione più che convincente, e se lo sono resi conto anche i tifosi del Barbera, che a fine partita hanno tributato una standing ovation in rosa-nero per la prestazione. Davvero strano il calcio, è ancora più pazzo questo Palermo. Noi dobbiamo guardare quello che per 75 minuti abbiamo fatto molto bene, perché ci è mancato veramente solo il gol, abbiamo rischiato pochissimo, abbiamo fatto tutto quello che era giusto fare, abbiamo fatto un grande primo tempo dove meritavamo il vantaggio per il gioco espresso, per le occasioni create, non rischiando nulla, essendo sempre molto attenti. Sull'episodio di Feddall è stato purtroppo un episodio che poteva essere importante, peccato. Rimane il rammarico perché poi su una grande giocata di Giorgiovic, che ha fatto un colpo veramente da campione sul 2-0, lì è stata un po' un'ammazzata. Ringrazio i tifosi perché sono stati straordinari, nel riconoscere lo spirito della squadra per come ha giocato, per come ha lottato, per come ha combattuto, ha ricercato sempre il risultato attraverso questa espressione qua, che oggi è quello sul quale dobbiamo ancora insistere, dobbiamo continuare a insistere, correggere e migliorare qualcosina, come è normale che sia, essere più concreti, più cinici, quello che un po' ci è successo in queste prime partite, probabilmente dovevamo pagare un po' forse qualche Dazio, ma non penso che potrà andare sempre anche nei singoli episodi, pagare Dazio in maniera così determinante, quindi girerà anche per noi, siamo noi che dobbiamo farla girare. Perché nel calcio non tutte le partite sono uguali, quindi dobbiamo girare pagina, se avessimo vinto e sbloccato la partita nel primo tempo, se avessimo fatto un risultato importante, non avremmo risolto, non avremmo cambiato nulla, a quello che deve essere un cammino di crescita sicuro, sul piano della personalità, sul piano della convinzione, dell'andare in campo comunque e sapere di fare partite importanti e soprattutto con più attenzione ai dettagli che in questa categoria fanno la differenza. Sorte diversa in Serie B per il Catania che invece rialza la testa. La fortuna per gli etnei è tornata ad essere favorevole, o meglio, lo è stata per la prima volta quest'anno, ma dopo la vittoria contro il Pescara, adesso è il momento di pensare ai prossimi incontri e cercare di mettere a segno punti preziosi per risalire la classifica. Il servizio. Torna la vittoria, torna l'entusiasmo, torna anche la buona sorte. Il Catania visto al massimino contro il Pescara non sarà certo stato brillante, ma almeno stavolta ha potuto invertire il trend negativo dei risultati e di fortuna. Ebbene sì, forse più dei tanto attesi tre punti i primi in campionato e aver fatto scattare la molla nella testa dei giocatori può essere stato il palo colpito da Pasquale al novantasettesimo. Un'illuminazione, una sorta di vendetta dopo il rigore subito a Crotone nel recupero. Per pochi secondi sembrava dover essere un DJV della beffa dell'uscita, ma in legno, alla sinistra di Annania, è stato benevolo. Il risultato invariato e vittoria a casa. È da quel palo che deve ripartire la squadra di San Nino, che ha finalmente toccato con mano la fortuna e spera di poterne essere baciata altre volte nel proseguo del campionato. Quel palo che aveva detto no a Calaio a Crotone e che aveva fatto temere i tifosi di non poter svoltare neanche con San Nino è adesso la pietra su cui ripartire. Ma la fortuna da sola non basta e questo è l'ex tecnico del Watford. Lo sa benissimo, nella cune difensiva e la scarsa concretezza di chi dovrebbe rendere possibile salto di qualità sono ancora sotto gli occhi di tutti e non può essere una vittoria di misura contro il Pescara. ultimo in classifica a nascondere i problemi del Catania. Prossimo impegno a Frossinone. Lavora anche il Trapani, che dopo il capo di Varese cerca il riscatto sabato al provinciale contro il Latina. Boscaia punterà ancora sulla coppia Falco Mancosu. Ed è tutto per il momento, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle notizie dall'Italia e dal mondo. Arrivederci. Giovanni Legnini, già sottosegretario all'economia del governo Renzi e il nuovo vicepresidente del CSM. L'elezione da parte del plenum è avvenuta con 20 voti a favore. Intanto la commissione verifica titoli ha dichiarato inelegibile Teresa Bene, uno degli otto membri laici indicati nei giorni scorsi dal Parlamento. Decisione contestata dalla stessa Bene che l'ha definita errata e infondata. Nessun timore di franchi tiratori al Senato. Ieri il partito si è espresso in modo chiaro. Così questa mattina Renzi, dopo il sede alla direzione del Partito Democratico, ha un documento che modifica la delega lavoro accogliendo alcuni rilievi, in particolare sull'articolo 18. I voti a favore sono stati 130 e i no 20, 11 le astensioni. L'economia italiana continua ad essere attraversata da una grave crisi, la più pesante dal dopoguerra. Lo scrive il CNEL nel rapporto 2014 sul mercato del lavoro. Le perdite di prodotto e occupazione sono concentrate soprattutto nel settore delle costruzioni. Del milione di posti di lavoro persi durante la crisi, più di 400 mila sono nell'edilizia. Diminuisce il tasso di disoccupazione in Italia, secondo i dati Istat. Ad agosto segna un 12,3%, in calo di 0,3 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,1 nei 12 mesi. Tra i giovani dai 15 ai 24 anni, invece, nuovo record negativo al 44,2%, in aumento di un punto percentuale rispetto a luglio e di 3,6 punti nei 12 mesi. In un quadro di forte instabilità c'è una certezza amara, l'aumento delle bollette. Da domani, primo ottobre, il metano aumenterà del 5,4%, l'elettricità dell'1,7%. Lo comunica l'autorità per l'energia. Una famiglia tipo pagherà 21 euro in più. Oltre ai raid della coalizione guida americana contro l'ISIS, dura offensiva anche delle forze kurde contro lo Stato islamico su tre diversi fronti in Iraq, a nord di Mosul, a sud di Kirkuk e in un'area vicino alla frontiera con la Siria. Si muove inoltre la Turchia, schierate decine di carri armati al confine siriano. Il premier di Hong Kong, Leung, chiede la fine immediata delle proteste di piazza innescate dalla decisione della Cina di porre limiti alle elezioni del 2017. Anche oggi i dimostranti hanno occupato le strade. Leung ha respinto inoltre l'invito a dimettersi che gli è stato rivolto dopo le cariche della polizia di domenica notte, censurati i social network. Grazie. 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 Grazie.